Facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, è questo l'obiettivo che sta alla base dell'Osservatorio Provinciale delle Competenze, un progetto realizzato nell'ambito delle iniziative proposte dal Digital Innovation Hub, finanziato con i fondi dei comuni di confine. Tale osservatorio rappresenta la prima attività concreta di questa fucina per l'innovazione in provincia, nata per supportare le imprese nella trasformazione digitale nell'ambito del piano Industria 4.0 e che ha sede presso l'Istituto Tecnico Negrelli di Feltre. In Italia è il primo esempio di un osservatorio legato al lavoro e alle competenze legate alla scuola, quindi un ponte tra la scuola, il lavoro, le imprese e quindi è il punto di partenza anche più concreto e più interessante, più stimolante per il Digital Innovation Hub, che andrà a creare quindi e a cercare e a definire le priorità legate alle competenze, che è diciamo la parte fondamentale. Ad occuparsi della redazione del piano di tale osservatorio sarà la fondazione ADAPT. Guarderemo ai dati, alle statistiche sul mercato del lavoro nella provincia di Belluno, in modo da avere un quadro complessivo quantitativo dei numeri. Poi costituiremo un gruppo di lavoro che vuole coinvolgere tanti attori diversi, perché siamo dell'idea che non basta l'impresa da sola, la scuola da sola, le amministrazioni locali da sole. Quindi metteremo intorno a un tavolo scuola, imprese, amministrazioni locali, agenzia per il lavoro, centro per l'impiego, sindacato, per chiedere a loro, alla luce dei dati statistici che presenteremo, quali sono le criticità più grandi. E poi andremo ancora più nel dettaglio inviando alle imprese un questionario in cui faremo all'impresa una serie di domande per cercare di capire quali sono i veri fabbisogni di competenza che hanno e che non riescono a trovare sul mercato. Una volta che avremo tutto questo quadro complessivo, individueremo delle azioni concrete di policy. Quali le tempistiche? Nelle tempistiche finiremo entro l'anno sicuramente la composizione dell'osservatorio, anzi nei prossimi giorni verrà definito con un protocollo comune. Immaginiamo che per i primi giorni di gennaio verrà distribuito a tutte le realtà un questionario che andrà compilato online, che andrà quindi a definire un database che sarà la base della formulazione del report che verrà presentato in primavera, quindi nei primi mesi del 2019. Grazie a tutti.